salve a tutti oggi vedremo il primo turno del mondiale tra zoo e odiambo l'apertura alla numero 63 comincia con 22 18 10 13 e 23 19 con questo cambio qua viene fatta 6 10 una delle principali e qua la mossa teorica era 28 23 però viene fatta 26 22 comunque una partita da adesso pari anche se è una 3 n qui la 6 10 è meno forte quindi ormai la partita è trasformata in come se fosse una n quindi una partita molto più giocabile comunque il nero fa 12 15 e conquista il centro qui viene fatta al bianco 31 27 5 10 ora il bianco fa 23 20 ma questa è un'imprecisione infatti la mossa migliore da qua era 21 17 con questo cambio però viene fatta 23 20 e qui il nero fa 10 13 per attaccare questa struttura qua da qui il nero acquista un po di vantaggio infatti quello che vuole fare il nero è togliere la 22 per andare subito a dama facciamo una mossa a caso adesso tipo 32 28 ecco ci sarebbe la partita comunque qui ancora una volta il bianco deve fare 21 17 per togliersi un po di rogne certo ci sarebbe è stato questo però poi con la ricattura ovviamente evitare ciò il bianco fa 27 23 e qui il nero acquista un vantaggio enorme qui il nero alla posizione completamente vinta cioè il bianco per evitare questa struttura con 27 23 purtroppo si mette in una posizione completamente persa odiamo gioca la mossa migliore 13 17 qua il bianco compre con 29 26 15 adesso il nero vuole andare a bloccare questa struttura il bianco lo prevede quindi crea questo specie di triangolo per dare poi il cambio è quello che succede comunque la posizione per il bianco è disperata 20 16 il nero deve giocare soltanto bene il medio gioco e vincere la partita infatti quello che succede questa è la mossa migliore 10 13 blocca mosse come 27 22 che ci sarebbe il tiro e quindi il bianco qui si deve difendere al massimo quindi dopo la 25 qui il bianco decide direttamente di giocassera con un sacrificio con 26 22 in realtà qua ci sarebbe è stata 32 28 comunque la posizione è completamente persa il bianco sente la pressione quindi cerca di attaccare il più possibile odiamo copre con 5 10 blocca tutto 27 23 qua tranquillamente fa delle mosse d'attesa con 48 qui il bianco gioca un altro sacrificio con 23 19 e attacca da questo punto il nero poteva va benissimo salvarlo facendo andare a dama il bianco però decide di giocarla in questo modo lasciando il pezzo e poi attaccando questo questa è una grossa imprecisione perché permette al bianco la 16 12 poi giocata in partita e comunque da qui comunque il nero ha sempre vantaggio un po meno però ce l'ha in realtà qui si poteva prima giocare 8 12 per evitare la 16 12 e poi attaccare il pezzo il nero comunque riesce ad andare in una posizione vincente infatti qui il bianco attacca con 37 il nero glielo lascia fare quindi si ritorna a pezzi pari il pezzo di vantaggio del nero viene perso quindi quattro pezzi contro quattro pezzi però la posizione è completamente vinta per il nero comunque vengono fatte poi le ultime tre mosse e da qui il bianco sportivamente si arrende ebbene abbiamo visto dei sacrifici da parte del bianco per poter sopravvivere mentre abbiamo visto dei sacrifici del nero perché potevano permetterseri ecco la posizione permetteva quindi la giocata così tanto poteva benissimo vincere allo stesso grazie a tutti per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima